Il settore delle auto sembra essere stato uno dei più colpiti, a vari livelli, dalla dilagante crisi di questi tempi che, andando a erodere molte delle risorse dei clienti, ha indebolito il settore delle auto sembra essere stato uno dei più. In un momento molto particolare come questo, captare il segnale e indirizzarsi, in tal senso, con delle oculate scelte di produzione e di mercato è davvero strategicamente fondamentale. In un momento molto particolare come in ogni settore la prontezza di riflessi e anche la lettura magari in anticipo delle possibili nuove ondate in divenire è qualcosa che appartiene, se non alla genialità, alla professionalità di come in ogni settore la prontezza di e così, un ambito nel quale la sostenibilità ambientale sta diventando di fatto predominante in tantissime scelte, come per appunto in quella delle auto, muoversi in tal senso è opportuno e così, un ambito nel quale la, se non altro alla luce dei grandi cambiamenti che sono in itinere e che per il 2035 prevede in teoria lo stop alle produzioni di veicoli inquinanti, in questa ottica muoversi per tempo in, se non altro alla luce dei grandi da questo punto di vista va detto che in molte aree, compresa quella italiana, il flusso di entrate e usciti del segmento elettrico pare vivere una stagione di step, forse per i costi dei veicoli, o magari per le infrastrutture, quel che conta, è capire, da parte di chi produce auto elettriche, come muoversi in contesti in evoluzione come, forse per i costi dei veicoli, o magari per le infrastrutture, quel che conta, è che per esempio, volendo fare un esempio fortunato e lungimirante, capace di incamerare successo, va detto che c'è un settore, tra i meandri dell'elettrico, che pare promettere bene, per esempio, volendo fare un esempio fortunato e lungimirante, capace di incamerare, all'interno di questo segmento si trova poi nel merito quella che viene considerata ad oggi la cabriolet di tipo elettrico più piccola in assoluto e che nel mercato delle auto si fa apprezzare per uno stile legale, inoltre, il prezzo è a dir poco conveniente, poco sopra le 12.000 euro, per l'esattezza 12.000 di che stiamo parlando, della Wuling Mini e il cabriola piccola cabriolet acquistabile in cinque tipo di auto